mi vedete pieno di sangue che pare che m'hanno menato però mi dispiace per voi ma non m'ha menato mai nessuno fisco di lavorare vado a casa faccio la doccia levo il cosetto per far doccia bam da una cornata sangue e voi coglioni che ci credete sempre bella tigre spero che a meno voi non ci credete adesso vi devo lavorare sprizzetto spruzzatina la cameriera gli diamo la mancia di là ci sta la 19n fresca fresca ma fresca 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 io vado solo con le svizzera e fresca cosa non capisce la lingua il traduttore poi dopo le adesso io vado da da un migliettino col numero di telefono corteggiamo come vecchi tempi bella tigre Dio santo se non dico Dio santo la strana non è finita Dio santo anche se non m'è ahhh ahhh ahhh